buongiorno amici e amiche di FC Inter News ben ritrovati con l'appuntamento delle dodici sul nostro canale YouTube da lunedì al venerdì un video approfondimento per parlare insieme della nostra inter e oggi è il grande giorno il giorno di intermina ritorno della semifinale di Champions League e repariremo insieme al nostro Alessandro Cavazzini ciao Alessandro ciao ciao Raffaele un buongiorno a tutti quanti seguaci di FC Inter News allora Alessandro sei noti io sono scaramatico indosso praticamente la la stessa pelpa di una eh di di mercoledì scorso eh l'Inter parte da un due a zero eh importante conquistato meritatamente no all'andata però eh bisogna sottolinearlo non è ancora finita serve un'altra grande Inter eh verosimilmente Alessandro secondo me l'Inter deve scendere no eh allo stesso modo come ha fatto con Benfica quindi nonostante no forte di due a zero però attaccare cercare no di segnare e no in qualche modo difendersi anche perché no le caratteristiche tecniche del Milan comunque lo permettono l'abbiamo sempre detto si parte alla pari è sempre un derby una semifinale di Champions però non dobbiamo cullarci su questo due a zero no eh assolutamente no ma credo eh questo lo lo dicemmo anche nel nell'immediato post gara dell'andata credo la che la più grande assicurazione in tal senso siano proprio le facce i volti le espressioni e anche le parole dei protagonisti nerazzurri dopo il due a zero ci fu una gioia ma molto contenuta perché sia la contezza di quello che che vuol dire il doppio confronto in più in un derby in una semifinale di Champions League quindi è un due a zero che è un vantaggio che però può anche eh per paradosso può anche essere minimo sia perché basta un gol per riaprire tutto ma questo lo sappiamo eh sia perché potrebbero essere molti di più i i gol i gol in favore dell'Inter quindi c'è stata per me la giusta accettazione di un di un doppio vantaggio che però è tutto ancora da concretizzare io mi fido di Simone Inzaghi il re delle coppe il fenomeno delle coppe perché eh abbiamo intitolato no sempre in questi appuntamenti Simone Rifallo perché praticamente a parte no Liverpool Inter quel doppio scontro eh però ecco anche lì si è giocata la pari Inzaghi fin qui nel suo percorso dell'Inter se è in campionato ci sono stati dei passi falsi delle cose ovviamente negative che abbiamo anche sottolineato in maniera no costruttiva nelle coppe Inzaghi si è dimostrato sempre no un fenomeno non ne sbaglia mai sia nella lettura delle formazioni eh iniziali sia no della lettura della eh a partita in corso anche con i cambi riesce sempre in qualche modo comunque lui a dare il contributo anche nella gestione quindi diciamo che da questo punto di vista no possiamo stare sicuri con Inzaghi? Sì 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 assolutamente sicuri con Inzaghi ma sicuri sicuri soprattutto sull'approccio che avrà l'Inter io da quel punto di vista non ho dubbi eh ecco perché in tal senso secondo me torna torna molto utile chiaramente noi parliamo dai esterni da analisti quindi non è che dobbiamo scendere in campo per fortuna o purtroppo io e te no Raff? Eh ehm da analisti il due a zero eh è un'assicurazione proprio proprio per questo perché l'Inter non faccio fatica a pensare partite in cui è uscita totalmente dal 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 match è stata sovrastata dall'avversario quindi certo l'episodio può starci può non starci ma qui non basta l'episodio perché il Milan deve vincere di tre gol di scarto quindi è chiaro con due andresti andresti al supplementare nulla ed è scritto nel calcio però come abbiamo sempre detto e io l'ho ribadito anche qui nel salotto con te temevo più il Napoli per una questione proprio di caratteristiche e di come queste caratteristiche di giornata del Napoli si associano con le caratteristiche gioie dell'Inter e e chiaramente sono stato soverchiato da insulti eccetera eccetera perché la gente tra scaramanzia eh tra chi guarda calcio ancora è il DNA storico sì sì io vedo molta retorica anche su questo DNA storico perché con tutto il bene ma Calulu Kerr eh Tomori questa grande esperienza che poi l'esperienza Milito voglio dire non aveva mai giocato la Champions il primo anno quindi anche lì siamo proprio sui fattori esoterici o no ormai l'Argentina non vincerà mai il mondiale ha vinto il mondiale il Napoli non crolli ha vinto lo scudetto il DNA del Milan aspettiamo le undici di stasera assolutamente sì eh ci sono anche i numeri no che fanno ben sperare gli ultimi tre derby praticamente l'Inter non ha subito mai gollo dobbiamo dire gli ha segnati sei tre in Supercoppa due all'andata e uno nel campionato quindi comunque ecco le due squadre sicuramente non si conoscono l'Inter comunque conosce i punti di forza eh le out dovrebbe essere della partita Alessandro per quanto riguarda invece l'Inter l'undici titolare sembra in qualche modo degnato si parla eventualmente di un ballottaggio tra Michitana e Brozic ma la sensazione no che parta l'armeno anche perché Brozic ha giocato 90 minuti no contro il Sassolo quindi l'undici dell'andata ha confermato io ti dico che non si poteva non farlo perché dopo quella prestazione no e poi magari Lukaku Lukaku Brozic dalla panchina anche in quel modo no possono dare il proprio contributo anche nell'eventualità Alessandro lo dobbiamo dire di un'eventuale notte supplementare diciamo tempi supplementari quindi c'è anche questa no questa è d'accordo comunque con le scelte di questa questa scelta qui di Zaghi sono d'accordissimo con le scelte di Zaghi e lo ero anche prima dell'andata quando in tanti storceva il naso su sulla decisione di lasciare in panchina Brozic Lukaku ma in Zaghi che non fa il nostro mestiere ma li vede quotidianamente fa altro ragiona anche nell'arco dei 90 minuti non solo dal primo al 45esimo Lukaku può risultare veramente devastante magari entrando a gara in corso ad esempio ieri in conferenza stampa il buon Musmar ha chiesto a Inzaghi tutti dovremmo dare più di rispetto a lei perché tutti ci aspettavamo Mkhitaryan fuori all'andata io gli ho scritto ieri se l'ho fatto guarda tutti no perché se ti rivedi la preview di FC Inter News io ho scritto Mkhitaryan titolare ma il centrocampo dell'Inter non può prescindere da Mkhitaryan titolare perché è quello che ti dà il cambio di passo lo strappo la qualità anche nello stretto e difficilmente perde palla è un' assicurazione anche perché quando perde palla le volte l'anno becchi gol quindi è un po' come succedeva ai tempi ad Albertino per restare nel derby però è chiaro che alla lunga Mkhitaryan è un punto fisso Barella per altre caratteristiche bascula diciamo così il il ruolo di regista tra Ciala e Broso ma qui c'è una veramente sta scendendo in maniera proprio scandita al al minuto tra i due registri e due centravanti cosa che secondo me è corretta e lo sta facendo in questo momento perché prima non l'ha potuto fare perché Brosovic è mancato tre mesi e Lukaku è mancato cinque mesi è passato tutto in sordina come passa in sordina oggi Skriniar e ragazzi Malinter sta giocando di fatto senza due terzi della difesa titolare De Frey che poi è calato nelle girarchie per diversi motivi e Skriniar però su questo c'è la cortina di fumo no? I meriti sono sempre di alto in Zagli è sempre l'ultima ruota del carro. È chiaro che una conquista no poi della finale di Champions League cambierebbe no da parte nostra perché noi siamo sempre stati no obiettivi con con in Zagli abbiamo sempre no criticato giustamente dove appunto bisognava criticare però abbiamo no esaltato il il percorso soprattutto no nelle nelle coppe Alessandro io siccome ci sei tu voglio parlare un po di storia oggi è 16 maggio 16 maggio è una data molto molto interista innanzitutto perché è compleanno no dimorati a cui noi facciamo i nostri più calorosi a fuori da parte della tutta la redazione e poi proprio 13 anni fa il 16 maggio 2010 la seconda la seconda vittoria nell'era della appunto della stagione del tripete la conquista dello scudetto quindi dobbiamo rendere ancora di più a Siena dobbiamo appunto rendere ancora di più questa data interista nell'Azzurra perché è chiaro Alessandro siamo 90 minuti dalla storia cioè oggi si può schiedere la storia al netto poi di quello no che sarà eventualmente nel risultato della finale oggi tu hai la grandissima occasione i giocatori i zaghi la dirigenza e tutti di entrare nella storia dell'inter perché una semifinale di Champions League un Euro derby contro il MIA non ti capita tutti gli anni l'abbiamo visto è capitato 20 anni fa abbiamo dovuto aspettare 20 anni 20 anni per prenderci la rivincita anche se poi molti hanno detto non si tratta di rivincita perché sono altri tempi altro però è chiaro che oggi puoi scrivere veramente veramente la storia in questa data ancora di più e puoi sognare puoi guardare a Istanbul e magari sognare in grande assolutamente ma se tu calcoli che io sono un classe 80 e questa è la terza semifinale dell'inter in Coppa dei Campioni barra Champions League che ricordo cioè e parliamo di diversi anni quindi no che c'è quella appunto col Milan quella col Barcellona nel duemiladieci e quella di quella di quest'anno e vorrei togliere qualsiasi tipo di dubbio al merito dell'inter al percorso fatto perché in tanti parlano di Benfica e Porto come sorteggi tra virgolette semplici però lo dicono dopo perché prima il Porto la squadra più rognosa possibile che aveva eliminato tutte le italiane poi la elimini a non vale nulla il Benfica la squadra migliore della Champions insieme al Napoli aveva superato il Paris Saint Germain aveva fatto a pezzi la Juventus poi e vabbè sì però il Benfica nel girone vorrei ricordarvi che fa parte sempre della Champions League no a te chiaramente lo ricordo ai famosi detrattori l'Inter ha fatto fuori il Barcellona e anche nel doppio confronto col Bayern l'andata vabbè era un Inter veramente in settembre però a ritorno Inter se la giocò piuttosto bene Lautaro si mangia un gol dopo cinque minuti e poi un rigore non dato su Manet a proposito dei rigori per chiudere il cerchio si è parlato ieri di Turpen no con parole messe in bocca in zaghi un po' ad arte vorrei solo ricordarvi questo dato senza fare polemica Turpen fu l'arbitro di Inter Tottenham prima gara dell'Inter in Champions League dopo un un periodo innumerevole no che era quella con con Spalletti due a uno vecino e quindi anche stasera che magari Turpen è che non è il mio arbitro preferito tutt'altro ma non parlo di pro Inter pro Milan in generale anche qui forse si chiude un cerchio no i famosi cerchi che vanno che vanno chiusi anche perché Alessandro personalmente arbitro francese inglese spagnolo americano eh qualsiasi cosa quello di cruni c'era a calcio di rigore tutta la vita cartellino rossa quindi speriamo no stasera di non doverlo rispolverare come episodio e questo significa appunto speriamo che non succedano cose che non sono mai successe finora esatto come ha detto qualcuno una famosa conferenza stampa qualcuno che non mette le mani avanti no esatto con questa tua puntualizzazione eh io eh ti ringrazio per essere venuto con noi questa mattina grazie a te grazie a tutti quelli che ci seguono noi ci rivediamo nei prossimi giorni speriamo no di commentare insieme una bella una bella vittoria un bel una bella una bella fetta di storia del dell'Inter e poi lo hai annunciato anche tu sarà poi eh dovremo in qualche modo concentrarci sul sul Napoli perché ci aspettano Milano e Napoli quindi eh due partite importanti questa settimana però oggi tutti concentrati anima e corpo in questo Euro Derby manca pochissimo siamo novanta minuti per scrivere da lo scrivere la nostra storia quindi invito tutti a seguire sempre Fcinte News in giornata o in alternativa potete scaricarvi l'app per avvicinarci insieme no alla partita di questa sera ci sarà il live ci saranno le pagelle ci saranno i commenti e soprattutto saremo in post diciamo dopo la partita dopo il tripice fischio eh finale in diretta per commentare a caldo il risultato di questo ritorno mi resta che lasciarvi oggi più che mai con calorosissimo diciamo sempre Forza Theater Il